Accompagnato anche da opere che in qualche modo ci rendano capaci di dominare la nostra vita, di non essere asserviti ai nostri istinti, alle nostre cattive abitudini, di ridiventare padroni della nostra esistenza, per consegnarla pura e libera da ogni macchia al Signore. E allora abbiamo bisogno talvolta non solo di questa attenzione costante, ma anche di saper rinunziare ai beni che ci appartengono, che abbiamo, all'uso smodato di questi beni. E lo facciamo per essere padroni della nostra vita, ma questo diventa anche una particolare attenzione, un motivo significativo, perché quello di cui ci priviamo, il di più che noi abbiamo vada a quelli che hanno meno, sì che il meno in qualche modo si equipara a noi. L'abbiamo il di più, non è nostro, lo dobbiamo dare agli altri, così che dei beni tutti possiamo godere e condividere. È un lungo cammino, molto bello. Ci lasceremo guidare ogni giorno dalla parola del Signore che ci indicherà, giorno per giorno, quello che deve essere questo itinerario, tempo di grazia, tempo favorevole, tempo di un inedito passaggio di Dio nella nostra vita.